Di Federico de Roberto, i vicere, voce di Lorenzo Pieri, libro terzo, capitolo settimo, prima parte. Il secondo figliuolo di Teresa, un altro maschio, nacque un anno dopo il primo, tanto che tutti dicevano agli sposi, si vede che non perdete tempo. Se al primo parto la duchessa non aveva sofferto, di quest'altro quasi non s'accorse, degno premio della purezza dei suoi costumi. La cerimonia del battesimo questa volta fu modesta, un po' perché era nato un cadetto, il baroncino, un po' per un'altra ragione dispiacevole. Grattandosi un giorno sotto la nuca, in mezzo alle spalle, per un forte prurito, il principe aveva calcato le ugne fino a farsi un po' di sangue. Lì per lì non ci aveva badato, ma dopo qualche tempo gli si formò nel punto maltrattato una specie di bottone che crebbe fino ad impacciarlo nei movimenti e ad impedirgli di star supino nel letto. Tutti attribuirono il fatto all'eccessivo grattamento, non di meno, siccome l'incomodo non andava via, fu necessità chiamare un chirurgo. Il dottore confermò che era una cosa da nulla, ma disse che senza una piccola incisione non sarebbe guarita. Il principe all'annunzio dell'operazione impallidi, rifiutando di sottoporvisi, ma giusto dopo il parto di Teresa quel tumoretto era cresciuto ancora, dandogli tanto fastidio che egli aveva consentito a lasciarselo tagliare. L'operazione cella durò più che non si credesse e il principe dove restare molti giorni in casa. Pertanto il battesimo del baroncino di Filici fu celebrato senza pompa. Il sindaco Consalvo fece da compare. Da Augusta venne per assistere alla cerimonia Giovannino. Durante l'anno egli aveva fatto, secondo la promessa, due o tre visite al figlioccio, visite brevi d'uno o due giorni. Dicevano che egli avesse ad Augusta e propriamente nelle terre di Costantina la figliuola ad un fattore, una bella contadina bianca, rossa e prosperosa, per via della quale rifiutava di stare a lungo a Catania. La duchessa madre ne era contentissima, come della più sicura garanzia contro il matrimonio. Il duca godeva nel sentire che suo fratello si divertiva e quanto a Teresa, nonostante che l'onestà le impedisse da provare quel legame, pure dimostrava al cognato un affetto fraterno e gli faceva molta festa. Se da Augusta egli mandava qualche commissione alla madre, spesso l'eseguiva ella stessa. Chiedeva ordinariamente biancheria, oggetti di uso domestico, ma di tanto in tanto anche tagli d'abiti da donna, busti, fazzoletti di seta, servivano per la figliuola del fattore. Tutte le volte che veniva alla casa materna egli aveva il viso più cotto, la barba più ispida, la pelle delle mani più dura. Su quella faccia da arabo del deserto il bianco degli occhi era però dolcissimo. Teresa ringraziava il Signore della saggezza che gli aveva ispirata, della salute che gli accordava. Però in cuor suo, ella domandava come mai quel giovane tanto elegante, così avido, di piaceri, delle cose belle e ricche, aveva potuto rassegnarsi a far la dura vita di campagna, a vivere con una contadina in mezzo a contadini. Non era però lei stessa la causa di quella trasformazione, ma subito quasi a scagionarsi ai propri occhi, ella pensava, sono trasformata anch'io. Dov'erano più infatti le sue ispirazioni poetiche, le sue alate fantasie. Aveva preso marito da due anni e già cominciava la terza gravidanza. Quando ella sognava di Giuliano Biancavilla, di Giovannino, pensava forse di divenire una macchina da far figliuoli, ed ella dava guerra a quei pensieri che lo spirito della tentazione doveva certo suggerirle. Biancavilla, tornato dal suo viaggio, dimenticava anche lui, prendeva moglie. Un giorno ella lo incontrò a faccia a faccia, trasalì un momento, ma un'ora dopo l'incontro non pensò più a lui. Giovannino era suo cognato, più nulla restava dei sogni antichi. Si doleva di questo? No. Pensava, che cosa mi manca per essere felice? Sono giovane, bella e ricca. Tutti mi vogliono bene, tutti mi lodano. Ho due angioletti di figli. Di che Milagno? E nella misura delle proprie forze aveva fatto il bene. La sua mamma di lassù non doveva benedirla. La beata non poteva essere contenta di quella lontana discendente. Lo spirito della tentazione si serviva di arti molto sottili per turbarla in quella serenità. Forse erano i libri, le poesie, i romanzi, quelli che certe volte, quando ella si sentiva più tranquilla e sicura e sorrideva di maggior beatitudine, facevano sorgere a un tratto una specie di nebbia che offuscava il suo bel cielo e le davano un senso di sgominante tristezza e il rancore d'un bene perduto prima ancora che ella avesse potuto raggiungerlo. Era peccato leggere quei libri, seguire quelle visioni. Il confessore, i preti che la circondavano, dicevano sì che erano pericolosi, ma non riconoscevano forse nello stesso tempo che il pericolo per lei era molto più lontano, giacché ella aveva un'anima retta e una mente sana e una coscienza purissima. E poi, e poi, ella aveva rinunziato a tante cose, se avesse rinunziato anche a vivere con la fantasia che le sarebbe rimasto. Anche Giovannino leggeva molto. Tutte le volte che veniva da Augusta le domandava, cognata, avete libri da prestarmi? E ne portava via a casse in mezzo alla roba di cui veniva a rifornirsi. In qual modo ammazzare il tempo quando non c'era da vegliare ai lavori della terra, la vendemmia, le seminagioni, i raccolti? Un'altra cosa di cui si provvedeva venendo in città era il solfato di Chinino. A Costantina, nei poderi della balata e della favalotta, regnava la malaria. Egli, veramente, nella stagione del pericolo se ne andava a Melilli, sui colli Iblei, dove l'aria era balsamica. Ma ad ogni buon fine, per sé, come pei lavoratori, era bene che il sovrano rimedio non mancasse mai. Una bella sera d'estate, Teresa e la duchessa madre, lasciato a casa in custodia della cameriera, il duchino, e presa in carrozza alla ballia col figliuolo più piccolo, facevano la consueta passeggiata. Il baroncino lattante, cullato dal moto dolce del legno, dormiva in mezzo a una nube di garza sulle ginocchia della nutrice. Teresa portava per la prima volta un abito molto ricco arrivatole da qualche giorno da Torino. Ella vedeva che tutte le signore le cui carrozze incrociavansi con la sua si voltavano, esaminandola, ammirandola. La carrozza salì fino alla Madonna delle Grazie. Il padrone e la ballia scesero, entrarono nell'angusta cappella e si inginocchiarono dinnanzi all'altare. Teresa aveva chinato gli sguardi, per evitare la vista del muro pieno di voti orribili, del carnaio che la disgustava ora come l'inorridiva bambina, ma fissando l'immagine della Vergine le diceva tutta la sua gratitudine per le grazie di cui la colmava. Sentivasi tanto calma da un certo tempo, quasi felice. Da un pezzo nulla più la turbava. Nessun soccorso aveva da chiedere alla Madonna. Sì, la salute sempre malferma di suo padre, l'umor tetro che lo rodeva dopo l'operazione chirurgica. Chiuso, cupo, cruccioso, con più bisogno di prima di prendersela con qualcuno, egli era tornato a rimugginare l'idea di dar moglie a Consalvo. Quantunque non parlasse e paresse non occuparsi di quel iettatore, rodevasi al pensiero della fine della sua razza, se quel iettatore non prendeva moglie. Egli aveva cercato un nuovo partito a Palermo, un partito che tutti assicuravano straordinario. Ma Consalvo aveva detto ancora di no, e il principe aveva rotto un'altra volta più violentemente con lui. Teresa pregò più a lungo, pertanto, poi si segnò e sorse in piedi. La suocera era già alzata, la baglia, l'umile contadina che reggeva in braccio il frutto delle sue viscere, finiva di pregare. Il bambino, destato dallo scalpiccio dei passi, dal borbottare dei ciechi questuanti, guardava la fiamma dell'altare tra ridente ed attonito. Ella distribuì tutto quel che aveva in tasca ai poveri e risalì in carrozza. La duchessa madre ordinò al cocchiere di andare a fermarsi al caffè di Sicilia. Lì il cameriere non aveva ancora portato i gelati, che una voce alterata esclamò dietro la carrozza, Teresa, mamma! Era il duca, irriconoscibile, con la camicia disfatta dal sudore, pallido come un morto. Volto al cocchiere, mentre esse domandavano sgomente, che c'è Michele, che hai? Torna a casa, ordinava egli, torna subito. E aprì lo sportello, salì, si gettò a sedere accanto alla ballia. Mio padre, il bambino, esclamava già Teresa afferrandogli una mano, ma egli, no, no. E mentre i cavalli sferzati partivano traendo scintille dall'astricato, spiegò finalmente, Giovannino, un telegramma del fattore, la perniciosa, sono corso dal dottore, poi alla stazione, vi ho cercato dappertutto, partirò stanotte con un treno straordinario. Nel primo momento Teresa provò quasi un senso di sollievo. Smarrita alla vista del marito, atterrita dalle sue oscure parole, aveva creduto alle più terribili catastrofi. La morte del padre, un'improvvisa minaccia per l'altro suo figlio. Assicurata che nessuno dei suoi era in pericolo, ella non attribuì molta gravità alla malattia del cognato. Poiché Michele perdeva la testa e la suocera, improvvisamente intenerita per quel figliuolo che aveva tanto trascurato, smaniava adesso e parlava di partire, di correre a chiamare altri dottori, ella sentì che toccava a lei ragionare. Letto il telegramma del fattore, la sua fiducia s'affermò. Il telegramma diceva, fratello vostra eccellenza trovasi a letto con febbre alta, somministrato subito solfato temendo perniciosa, venga qualcuno famiglia insieme dottore. Il duca non aveva posto attenzione alla forma dubitativa dell'annunzio, ella diede coraggio a tutti, soffersi di accompagnarli, ma la duchessa che esclamava ogni due minuti, figlio mio, figlio mio, volle che restasse. Allora ella preparò le valigie per il marito e per la suocera, non dimenticando nulla, raccomandando loro di non lasciarla senza notizie, assicurandoli che anche della perniciosa, il chinino già somministrato e le cure del dottore di Catania avrebbero sicuramente trionfato. A luna della notte Michele e la duchessa partirono. Restata sola in casa, la sua fiducia cominciò a mancare. Se non si fosse trattato di una cosa grave, il dispaccio, la richiesta ad un altro dottore, la chiamata dei parenti, non sarebbero stati necessari e perché non aveva firmato egli stesso il telegramma. Stringendosi al petto i bambini, ella pregava in cuor suo, Signore, Madonna delle grazie, fate che non succeda una disgrazia. E perché col giorno, quando Michele e la duchessa dovevano essere giunti al capezzale di lui, non veniva nessuna notizia. Ella diceva tra sé, per darsi coraggio, nessuna nuova buona nuova. E tentava a raffigurarsi i volti ilari del marito e della suocera, nel vedere il fratello e il figlio rider loro, assicurarli. Perché dunque non rassicuravano lei stessa? Non sapevano che anche lei era inquieta? Come si rimproverava adesso il crudele egoismo che l'aveva quasi fatta gioire, udendo che il pericolo era per il cognato? Non le era quasi fratello? Non l'amava ella di fraterno amore? Come si perdeva adesso? Come si cancellava la memoria di quell'altro amore che aveva nutrito per lui? Adesso restava solo l'amico, il parente, colui che aveva tenuto al fonte della redenzione la creatura sua. E le notizie mancavano ancora. Veniva gente a chiederne, parenti, amici, ed ella non poteva darne. Il marchese Federico, scotendo il capo, riferì d'aver sentito dire che l'imprudente giovanotto era stato a dormire parecchie notti nelle terre della balata, nel fitto della malaria. Ho paura che sia di quella buona, sarebbe peggio di una schioppettata. La principessa Graziella protestava, ma che le male nuove le porta il vento. Se gli hanno dato il chinino a tempo, non c'è pericolo. Fino a mezzogiorno non venne nulla. Ella stessa voleva fare un dispaccio per sollecitarla risposta, ma comunicata l'idea alla madrigna, questa rispose che non le pareva il caso, che era meglio aspettare. Nel pomeriggio restò di nuovo sola. I tristi pensieri tornarono ad assalirla. Per combatterli, per discacciarli, si mise in orazione. Pregando, pensò alla beata, alle lampade votive ardenti nella sua cappella. Con la veste che indossava, buttandosi soltanto uno scialle sulle spalle, accompagnata dalla sua cameriera, si fece portare in carrozza chiusa ai cappuccini. Sotto l'altare stava sempre la secolare cassa mortuaria, l'oggetto dei suoi terrori. Ella ne sostenne la vista, giunse le mani, invocò alla santa parente la salute del poveretto e ordinò al sagrestano d'accendere una lampada perpetua. Tornata a casa, non trovò nulla, ma uno squillo di campanello la fece trasalire, forse era il dispaccio. Era invece un usciere municipale mandato da Consalvo, il quale voleva sapere le novità. Ella schiuse una finestra, avendo bisogno d'aria. Tornando in camera sua, cadde sopra una seggiola col viso nascosto tra le mani. Era morto. Michele non le dava la notizia funesta riguardo del suo stato. E a un tratto il passato le tornò tutto alla memoria. Ella lo rivide come lo aveva conosciuto, come lo aveva amato. Udì la sua voce dolce quando le aveva domandato, Teresa, Teresa, mi vuoi bene? E con gli occhi aridi, con voce strozzata, ella riconobbe, sì, sì, l'ho ucciso io, per me ha mutato vita, è andato a seppellirsi laggiù, ha trovato la morte. Sorse in piedi. Se qualcuno l'avesse udita, le creature dormivano, ella era sola. E i dolorosi, i malvagi pensieri tornarono ad assalirla. Non era stata lei sola, erano stati anche, soprattutto, quegli altri. La sua madrigna, suo padre, la madre di lui, tutta quella gente dura, spietata, inesorabile, tutti quelli che avevano impedito d'essere felice a lui e da lei stessa. Perché ella non era stata felice, no, mai. E le davan lode per l'amore che portava al marito, se non l'aveva amato neppure un momento, se le ispirava quasi disgusto, se disprezzava la sua ignoranza, la sua volgarità. E l'avevano sacrificata per i loro puntigli, per i loro capricci, per la superstizione dei titoli, per l'idolatria delle vane parole, pazzi e maligni. Aveva ragione con salvo. Egli aveva ben fatto che s'era ribellato. La sciocchezza era stata tutta sua, nell'obbedir ciecamente, colpa sua, anche sua, per obbedire, per rispettare, per contentare chi? Gli assassini di nostra madre. Con gli occhi spalancati ella trattenne il respiro. Il bambino l'aveva udita. La guardava coi chiari occhi sereni, lucenti come celesti spiracoli nella penombra della sera. Non corse a lui. Nella penombra anche l'argento del crocefisso, il vetro del quadro della Madonna, lucevano. Perché dunque essi permettevano queste cose? Non le sapevano, non le vedevano, non potevano impedirle. La porta si schiuse. La cameriera entrò esclamando, eccellenza, il telegramma! Ella lesse. Dottori assicurano superato ultimo accesso, riprende conoscenza, siamo più tranquilli. Allora ruppe in pianto.